Ben trovati in studio per questa nuova puntata di Legal Corner, oggi parliamo di un settore molto stressato tra virgolette dalla attuale emergenza sanitaria che è quello della privacy e ne parliamo con l'avvocato Giovanni Ricci, partner di Edoardo Ricci, avvocato, avvocati Buongiorno e benvenuto Buongiorno, grazie per l'opportunità Grazie a lei, come appunto accennato in apertura parliamo di privacy Avvocato, io le chiedo la liceità del trattamento dei dati personali compresi chiaramente quelli relativi alla salute che insomma in questo periodo sono stati appunto tra virgolette stressati si fonda su varie coperture giuridiche, a suo avviso quali sono le principali? Dunque, le principali coperture giuridiche di un trattamento lecito dei dati personali, ivi compresi, quelli sensibili sono in generale per i dati personali non sensibili il contratto, una copertura contrattuale Facciamo un esempio, quando noi installiamo sul nostro telefono un software di navigazione e tipuliamo un contratto questo contratto per funzionare, cioè per rendere il servizio al quale è sotteso perché il servizio sia possibile renderlo al cliente comporta per definizione il trattamento dei dati di geolocalizzazione del sottoscrittore ecco, in questo caso il dato è trattato legittimamente perché la sottoscrizione del contratto porta con sé la liceità del trattamento geolocalizzazione Un'altra copertura giuridica importante è quella legata al consenso ogni volta che noi entriamo in un sito web spesso veniamo inibiti alla navigazione immediata perché dobbiamo flaggare degli spazi dove diamo il consenso ad alcuni trattamenti come per esempio l'indirizzamento al nostro indirizzo di posta elettronica di marketing di vario genere ecco, in questo caso con il nostro consenso noi rendiamo lecito questo tipo di trattamento Altra copertura giuridica molto importante e in questo caso specifico la più importante dal mio punto di vista è il trattamento del dato per motivi di pubblica utilità perché è importante in questo caso? perché nel considerando 45 o 46 del GDPR che sta per General Data Protection Regulation e che è a sua volta la normativa che viene applicata in tutta Europa per la protezione dei dati personali da trattamenti illeciti si prevede che le autorità governative possono trattare dati sensibili e quindi in particolare quelli per la salute per esempio senza il consenso dei titolari quando per esempio ci si trova nel corso di una epidemia quindi qualcosa di più pertinente rispetto alla situazione attuale noi sappiamo dal GDPR e dai considerando che sono dei testi di accompagnamento che spiegano la finalità delle varie norme e il perché sono state scritte in un determinato modo che quando un'autorità governativa ha bisogno di perseguire un obiettivo di pubblica utilità e nella pubblica utilità rientra la protezione della salute pubblica può disporre dei nostri dati sensibili può trattarli senza chiederci il permesso perché? perché sta proteggendo la salute di tutti quindi avvocato il passaggio appunto che viene istantaneo è quello all'app Immuni dove invece il consenso è stato richiesto poi ci sono stati mesi e mesi di discussione proprio su questo punto e attualmente l'utilità dell'app non vorrei sbilanciarmi ma penso che è nulla però l'app allo stato attuale delle cose non funziona è inutile e quindi esprimersi come lei si è espresso lungi dall'essere come dire un atto di coraggio è l'esercizio del diritto di cronaca certo ma quindi andava comunque richiesto il consenso perché appunto ai sensi della GDPR a quanto pare no come dire essere equilibrati quando io dico che per esigenze di salute pubblica il dato può essere trattato senza chiedere il consenso dei titolari non dico che questa cosa deve essere fatta in questo modo il GDPR mette a disposizione di chi deve trattare un dato varie coperture legali per farlo lecitamente il nostro governante per ragioni ovviamente le più varie che in molte delle quali sono come dire rimaste embedded nelle segrete cose delle stanze dei ministeri ha deciso di utilizzare il consenso al posto di rendere obbligatorio il trattamento e in questo caso secondo me ha fatto un errore perché le app e i software che si occupano del contact tracing non funzionano mai se la base statistica sulla quale lavorano non è di gran lunga superiore al 50% dei possibili soggetti da tracciare quindi è chiaro che avendo dato a noi la facoltà di utilizzare l'app o di non utilizzarla ha consentito ai singoli cittadini di scegliere di non farlo poi in questo caso c'è un doppio passaggio da tenere presente perché io Immuni l'ho studiata e l'ho anche banalmente installata sul mio telefono per vedere come funziona molti di noi sono convinti che sia l'installazione a generare poi il risultato di essere tracciati al di là del fatto che Immuni non traccia la nostra posizione quindi questa è stata anche una falla nella comunicazione Immuni non ci geolocalizza e non lo fa mai perché non può farlo non è fatta per funzionare così ma nel momento in cui noi la installiamo sul telefono non l'abbiamo ancora fatto niente perché noi per farla funzionare o per consentirgli di funzionare per quel poco che può fare dobbiamo anche attivare il bluetooth se noi semplicemente la installiamo e non attiviamo il bluetooth Immuni sta nel nostro telefono spenta e quindi sostanzialmente è inutile a prescindere dall'installazione quindi anche questo non è stato ben spiegato no esatto appunto ci possiamo arrivare noi che abbiamo delle competenze lei ovviamente più di me ma accanto a noi ci sono anche delle persone che magari non hanno questo tipo di competenza tecnologica per capire che senza il bluetooth dato che funziona col bluetooth perché il tracciamento di Immuni se posso dilungarmi un attimo come funziona? il tracciamento è inteso come controllo di un'eventuale esposizione al contagio Immuni non ci traccia dal punto di vista geografico non dice a nessuno dove noi siamo Immuni cosa fa? con il bluetooth acceso che ha un raggio di 10 metri ci dice che noi siamo stati esposti alla presenza di una persona positiva in un determinato orario di un determinato giorno di una determinata settimana di un determinato mese dove questa prossimità sia almeno di 5 metri cioè sfrutta il bluetooth non nel raggio massimo di 10 metri che è il limite tecnologico di questo tipo di tecnologia ma per un raggio che vale la metà di questi 10 metri e quindi quando eventualmente noi siamo in presenza di una persona positiva riceviamo sul nostro telefonino una notifica che ci dice come ripeto non che noi siamo stati esposti a qualcuno che magari viene che non viene neppure identificato con nome e cognome ci dice a qualcuno in un determinato momento temporale certo stop siamo noi che possiamo sapere perché magari ci ricordiamo dove eravamo il tal giorno o la tal ora però questo è una cosa che non l'è del diritto alla privacy di nessuno perché noi stiamo riflettendo su che cosa su dove eravamo su dove e quando eravamo su quella che era una nostra se ricordiamo qual era la nostra giornata in quel momento null'altro viene viene come dire divulgato se non questi dati che sono dati che proteggono totalmente la nostra identità la nostra riservatezza e anche i nostri dati sensibili perché in realtà non ci dice che noi siamo contagiati lo dice qualcun altro ci avverte che siamo stati esposti a un positivo e ci mette quindi in condizioni sia di contattare volontariamente le strutture sanitarie e sia di essere contattati perché chiaramente questo dato di esposizione viene notificato a una centrale operativa che può avvisarci e finisce qui qui insomma uno strumento potenzialmente utile che però è stato poi di fatto reso inutile ma ecco avvocato concentrandoci ora sulla campagna vaccinale siamo appunto nel pieno di questa di questa campagna e cosa pensa del criterio che è stato scelto per avvicinare insomma la popolazione alla somministrazione dei vaccini Allora penso che allora penso che sulla carta per rendere come dire più efficace la campagna vaccinale ripeto sulla carta cioè quello che doveva essere fatto era rendere questo trattamento sanitario obbligatorio questo perché non è stato fatto non è stato fatto perché cerco di esprimere nel modo meno offensivo un concetto un po' forte la vaccinazione come tale è stata messa a punto e offerta al pubblico in tempi troppo ristretti per essere chiusa come prodotto al 100% questo significa che in qualche modo la sperimentazione è ancora aperta e si chiude con il primo giro di vaccinazioni e si chiude col primo giro di vaccinazioni a rendere obbligatorio il trattamento rischia di esporre il governante a gravi problemi di natura penale perché se viene fuori poi in seguito posteriore che ci sono delle intolleranze statisticamente rilevanti che causano gravi problemi di salute o addirittura situazioni letali il governante rischia molto dal punto di vista del diritto penale quindi per evitare questo tipo di problematiche cosa si fa? si dà alle persone la responsabilità di scegliere se vaccinarsi oppure no questo è assolutamente poi c'è tutta tutta la parte dedicata ai diritti al diritto del datore di lavoro di magari obbligare il dipendente c'è tutto tutto un tema aperto sono delle come dire delle aree molto sensibili che potrebbero generare dei problemi dando la possibilità ai cittadini di vaccinarsi oppure no ovviamente si evitano tutte queste problematiche perché diventa una responsabilità personale io non so se voi avete avuto perché magari avete dei familiari che per età per esempio magari possono essere già stati vaccinati modo di vedere i consensi informati che vengono fatti leggere e poi sottoscrivere alle persone prima di ricevere la vaccinazione ma sono dei consensi informati che per me che mi occupo anche di medical malpractice sono surreali perché l'informazione che viene data è che chi si accetta di essere vaccinato si fa iniettare un preparato di cui non si conoscono gli effetti di cui non si conosce l'efficacia protettiva nei confronti del virus e di cui non si conoscono anche eventuali conseguenze collaterali perniciose a livello di salute quindi ci veniamo informati che chi ci fa iniezione non sa nulla di quello che ci sta iniettando abbiamo chiuso nel senso perfettamente l'idea del perché questa vaccinazione è stata subordinata al consenso di noi tutti eh sì non poteva essere altrimenti visto il poco tempo in cui insomma sono entrati in circolazione i vaccini esattamente bene avvocato io sarei qui ancora diverso tempo a parlare con lei ma purtroppo il nostro tempo è finito e la ringrazio molto per essere stato con noi grazie a voi di nuovo per l'opportunità e grazie anche ai nostri telespettatori appuntamento alla prossima puntata di Legal Corner